Senza tasti in più, eh? No, 1912, nemmeno il terzo pedale. Non aveva ancora i tasti. Nemmeno il terzo pedale, ma la tastiera d'Avorio è un sacco di suono. La bellezza dell'Egio a Roma. Deco quasi, eh? Vuole provare? No no no, non lo faccio proprio un po' mi intimide. Un ciclo fisico del pianoforte, che abbiamo scoperto anche molti musicisti, purtroppo, non conoscono perché facciamo ascoltare, facciamo ascoltare. e poi lo poggiamo sul legno e qui già tutti un attimo si sconvolgono un po' e poi diciamo e adesso vi facciamo ascoltare come suona una tavola simonica che non è un normale e la conclusione è che dentro questa piccola macchina come per magia sono racchiosi tutti i pianisti i compositori e soprattutto i costruttori di queste macchine che hanno reso possibili le scritture dei grandi capolavori ma chi è che ha inventato questo sistema? questo carillon? sì che amplifica il suono a seconda dove lo semente io lo conoscevo per merito delle scuole di accordatura di alcuni accordatori e poi ho scoperto che è vero che hanno profonda ragione che ascoltano la bontà della tavola armonica no 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 questo viene da Salisburgo è un carillon di museo di Salisburgo e effettivamente con questo si sente dove sono i punti critici della tavola armonica dove suona male lì c'è qualche cosa effettivamente quando poi anche con Giorgio ci siamo ritrovati io l'avevo sempre immaginata una cosa forse un po' scontata e invece stai scoprendo un grande successo perché si capisce perché il pianforte suona il fatto che noi ascoltiamo in realtà le vibrazioni del legno e non della corda poi sono un jazzista sì sì ho bisogno del contrabasso e del traspazio mi ricordo una cosa che fece lei con Frappo Cerri ah con Frappo Cerri dove questo? lì si è in televisione sì ma in televisione sì abbiamo fatto in televisione con Gianni Basso sì Gianni Basso ma ho fatto una cosa recentemente perché io non sono mai lì io accompagnavo semplicemente facevo due note in introduzione ma sono quelli classici con Mario Brunello sì ho accompagnato la Raina Kavajranska però ho fatto poi con anche con Otto Bughi abbiamo fatto il pezzello però io sulla musica classica sì preparavo l'ottavo anno quindi sono abbastanza però non ho mai ma invece il jazz non so si conosce Danilo Bea sì 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 e allora coinvolti in una serie di conferenze che c'era all'auditorio abbiamo fatto questa conferenza scienza e musica con due stelle e allora suonavamo un po' un po' un po' un po' un po' un po' insieme e questa cosa è stata raggiunta poi dal 7 dal programma della Dandini un pianoforte elettrico che non è un pianoforte elettronico perché c'è questa roba lì sì sotto la parte elettronica è un pianoforte è un pianoforte normale è un pianoforte normale esattamente come questi con i feltri, i tasti, i martelletti, le corde, eccetera amplificato cioè è un pianoforte a coda in miniatura grande così e se è spento suona comunque ma ha un suono perché non ha la cassa armonica sì, certo ha una piastra che rivela tutti i suoni e li amplifica dentro un amplificatore però io su quel pianoforte lì quando suona è come uno tenue con un microfono le immagini assiste a un concerto dove c'è l'amplificazione tant'è vero che io suono con Oscar Peterson che è famoso sezista metto sul disco ha due pianoforte e suoniamo insieme il suono è indistinguibile quello suo registrato è il mio quindi non è un pianoforte vero però è un suono... i bassi insomma, lo strumento e poi come dice inizio 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 è stato un piacere anche per me anche a lei di cuore